La Lavoro, un progetto che mette insieme studenti di due istituti, uno del Parmenze e uno di Catanzaro, sfruttando le possibilità che offre la tecnologia online. Ce ne parla Antonia Boschi. Ritengo che l'alternanza sia una cosa molto importante per avvicinare i ragazzi comunque al mondo del lavoro e cercare di integrarli in quello che sarà successivamente il loro futuro. Studenti di due istituti scolastici di stanti mille chilometri che lavoreranno in rete, con il supporto di un'azienda, su un progetto ben preciso che prevede la realizzazione di una guida per automatizzare una fase di un impianto di foratura. L'iniziativa che rientra nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro ha coinvolto l'Istituto Superiore GAD di Fornovo nel Parmenze e l'Istituto Tecnologico Ercolino Scalfaro di Catanzaro e la Turbo Coating, azienda con sede in provincia di Parma con 800 dipendenti in tutto il mondo. Le aziende ci fanno in qualche modo delle commesse di lavoro, ci accompagnano in questo percorso con le loro competenze e chiedono agli studenti e ai docenti coinvolti di costruire un prodotto, un processo. L'obiettivo principale è proprio quello di avvicinare in modo concreto gli studenti alle problematiche del lavoro. In questo modo possiamo integrarci anche al meglio al mondo del lavoro e capire anche per me gli studenti come proseguire una volta terminati gli studi. Può mettere in pratica quello che si è imparato a scuola durante il corso degli anni. L'iniziativa è stata presentata con una videoconferenza tra l'azienda e le due scuole che d'ora in poi lavoreranno in stretta sinergia. In questo caso c'è un valore aggiunto che una scuola lontana a mille chilometri dalla nostra scuola può lavorare con noi grazie alle nuove tecnologie e fare un lavoro di progetto comune che magari anni fa non era possibile.